Scusami, che cosa vorresti dall'Europa per chi voterai alle prossime elezioni europee? Ma dall'Europa mi aspetto che faccia conoscere le nuove opportunità di studio e di lavoro. E all'Europa credo che voterò per l'Ara Comi perché parla direttamente a noi giovani. Grazie. Cosa chiede all'Europa? Dunque, che sostenga il Made in Italy e che crei nuovi posti di lavoro. Per questo voto l'Ara Comi. Buongiorno signora, posso fare una domanda? Voterebbe l'Ara Comi all'Europa? L'Ara Comi sicuramente sì, perché la reputa una donna decisa e molto ben preparata. E poi credo sia giunto il momento di dare spazio ai giovani che se lo merita. Grazie. Alle elezioni europee, il 25 maggio, vota l'Ara Comi.